Partiti! Poi una terza linea formata a Dr. Devil, Charlotte Comet, She's Got The Power e poi tutto il resto del gruppo. Andatura non è esagerata e allora Dario Vargi preferisce farsela davanti con Sai Cortesa Pertas che è in vantaggio in questo momento nei confronti della favorita. Marilyn M, poi terza posizione occupata da Nurage Irru che ha in schiena Fairy Rules, poi allora Dai con ancora all'interno Charlotte Comet che è la grigia e precede l'altro grigio, Dear Gramps, poi She's Got The Power, Really Nice e poi a chiudere il gruppo c'è Angel Yu insieme a Enjoy The Silence. Cavalli che adesso sono a metà curva con Sai Cortesa Pertas in vantaggio nei confronti di Marilyn M, cioè i due più giocati. In terza si fa sotto Charlotte Comet, poi ancora Allora Dai Fairy Rules, Dear Gramps, Really Nice, Nurage Irru, She's Got The Power e tutto il resto del gruppo. Siamo addirittura ad arrivo, comincia la volata di pista piccola con Sai Cortesa Pertas che cerca di prendere di infilata gli avversari, si avvicina minacciosa, Marilyn M ancora non richiesta, più al centro della pista c'è anche Allora Dai tra questi Charlotte Comet, questi quattro che se la vanno a giocare perché da dietro per il momento non rimvengono. Allora Sai Cortesa Pertas cerca di ripartire dall'attacco di Marilyn M, poi in terza posizione c'è Charlotte Comet, siamo a 150 dal palo, mette mano alla frusta Charlotte Comet, Salvatore Basile che va a attaccare Dario Vargiù, questi due che fanno un bel test a testa, al momento Sai Cortesa Pertas sta mantenendo qualcosa, va sul traguardo, Marilyn M si avvicina ma forse non fa in tempo. Dobbiamo rivederla sul maxi schermo ma probabilmente Sai Cortesa Pertas è riuscita a tenere rispetto all'attacco di Marilyn M, rivediamo le battute finali, praticamente il duello della vigilia che si è concretizzato fin sul traguardo. Testa a testa anche se le due non sono vicinissime, ma Sai Cortesa Pertas tiene, vince la prima in carriera dunque alla terzo tentativo la figlia di Casamento con Dario Vargiù in sella, colori sono quelli di Michela Crecco, il training è quello del team Botti, la quota al tot era di 2,95 al secondo posto e 9 Marilyn M. E al terzo l'altra grigia Charlotte Comet, quindi numericamente 13,9,2 l'ordine d'arrivo ufficioso della seconda da Roma. Grazie a tutti.